è in qualche modo tamponata per ora fino a fine dicembre qui, poi la provincia ha previsto di spostare le cinque classi al Santo Stefano perché ci sono dei locali vuoti che possono essere utilizzati dalle classi fino a fine anno scolastico quando inizieranno i lavori di ristrutturazione, lavori importanti, sono quasi 7 milioni di euro, chiaramente come sempre quando ci sono i lavori ci sono anche i disaici, però è un immobile che da anni aspetta di avere questo intervento, quindi questo ci fa piacere che sappiamo che parta e che quindi diventerà poi un punto di riferimento importante perché crediamo che una volta effettuati i lavori di ristrutturazione del Santo Stefano l'immobile possa contenere tranquillamente sia il Bonifazi sia le classi del classico che non possono andare ad venire, quindi diciamo che tra due, tre anni alla fine dei lavori forse ci può essere una soluzione anche ben accetta perché comunque si rimane al centro storico, distanza ragionevole tra la sede principale della succursale, quindi questa è la prospettiva di medio termine che credo sia accettata e condivisa da tutti e va bene che ci sia. Il problema è questi due o tre anni in cui se non interviene un qualcosa, una qualche decisione o una qualche iniziativa la scuola, il legge classico si trova nella difficoltà di prendere iscrizioni. Il problema più grosso era quello di mettere nelle condizioni le famiglie di non sapere cosa decidere per i figli. Appunto, e le famiglie stanno decidendo in questo mese di dicembre al massimo ai primi di gennaio, poi le iscrizioni partono e vanno. Anche come amministrazione ci siamo un po' interrogati, abbiamo fatto un ragionamento molto semplice, cioè al di là delle difficoltà della provincia io tutto voglio fare meno che le polemiche, questo penso che lo si sia capito su questa questione, è una questione seria, importante che mette in gioco il futuro di un istituto scolastico storico della nostra città, quindi tutto porta vantaggio meno le polemiche, quindi questo è proprio lungi da questa volontà. Però se la provincia si trova in difficoltà non ha le risorse finanziarie, almeno questa è stata la giustificazione ufficiale quando si è interrotta la prospettiva durante l'estate di risolvere la questione. Non è possibile che una città come Recanati, un territorio anche più vasto perché poi le nostre scuole come sappiamo sono un punto di riferimento per un bacino che va molto al di là del territorio comunale, complessivamente abbiamo circa 3200 iscritti nelle scuole superiori che chiaramente non sono gli studenti che vengono solo dalla nostra città, ma anzi molti sono quelli che vengono dai comuni limitrofi, quindi siamo un bacino di utenza ampio e non è possibile che ci si possa bloccare di fronte a qualche decina di migliaia di euro, fossero anche 100 mila euro. Una soluzione va trovata perché poi quando ci sono altre emergenze o altre cose in cui ci si impegna i soldi in qualche modo vengono sempre fuori. È chiaro che le competenze sono quelle e non è che si possono stravolgere, quindi è chiaro che la competenza rimane della provincia, è chiaro che il comune non può investire su istituti, su servizi che non sono i suoi, è come investire in un ospedale o in un altro tipo di servizio, che ne so, in un servizio che riguarda le imposte dirette non lo puoi fare, è al di fuori delle due competenze, quindi rischia anche il danno erariale perché poi la Corte dei Conti queste cose le verifica. Per cui quello che può fare il comune è massima disponibilità, offrire alternative, ipotesi conoscendo il territorio e poi quello che abbiamo pensato di fare oggi, cioè coinvolgere le forze della propria città. Abbiamo tanti imprenditori, abbiamo tante associazioni, abbiamo una banca di credito cooperativo che è molto attenta alle problematiche del territorio, quindi forse si può pensare a una cordata che possa mettere insieme delle risorse finanziarie che ci fanno sciogliere questo nodo che in questo momento ci sta soffocando, come città e come istituto scolastico di punta della nostra città. Poi vedremo, nessuno si deve sentire obbligato a niente, è un incontro quello che faremo giovedì con la massima serenità, ci sarà la dirigente del liceo classico. Nessuna volontà diversa da questa, soltanto pensare se ci può essere una soluzione anche di questo tipo da mettere sul tavolo. Ecco, un mio dubbio, una mia perplessità, cioè il fatto di raccogliere tramite gli sponsor magari dei fondi che possono essere utili per superare la mancanza di una sede, quindi un affitto, quindi significa che quello che è competenza della provincia se lo accolle il Comune di Recanati come onere finanziario? No, se c'è un gruppo di privati che contribuisce la risorsa è quella e quindi il Comune può... Sì, va bene, quindi è i privati che vengono in soccorso alla provincia. Esatto. Capito? Ma va bene, in questa maniera la provincia dice, a posto abbiamo risolto la questione, però dici, al di là di quello che potrebbe essere utilizzato e sfruttato la provincia in maniera, non so con quale anche stato d'animo poi lo farà, è che il risultato si è raggiunto. Sì, appunto, questo è perfetto, è proprio quello che è il concetto. Io anche qui non voglio credere che la provincia di Cava è a posto, siamo risolti il problema, non penso. Anzi, dovrebbe avere un obbligo... Ma perlomeno dire... Lo spinto in più. Non abbiamo tutta la risorsa, possiamo mettere una parte, una parte la raccogliamo in quest'altro modo, però non siamo di fronte a un milione di euro di investimento, per cui sono cifre irraggiungibili. E allora questo non ci può stare. Poi io posso anche capire che la provincia, avendo appunto una provincia intera, non abbia una preoccupazione così pressante su un singolo istituto, cioè in termini semplici può anche pensare che se uno non può prendere iscrizioni, vuole dire che ce ne sarà un altro. Ma per noi, città di Recanati, questo non è la stessa cosa. Cioè sapere che il nostro liceo classico, Giacomo Leopardi, a Recanati non prende iscrizioni, cioè io non... Beh vabbè, non è il doppe. Non mi voglio arrendere a questa... Anche perché immagino che andremo sulla stampa nazionale, insomma diventerà un caso nazionale perché succede questo dopo. Adesso senza nulla togliere ad altri territori, ma è un liceo classico che porta il nome di Giacomo Leopardi e noi non riusciamo a fargli fare le iscrizioni. È vero che abbiamo anche il classico Leopardi di Cittanova, abbiamo scuola Leopardi di Macerata, non so che istituto sia. Ce ne saranno migliaia. C'è migliaia di scuola Leopardi. Però questo sta reganato. Però sta reganato, sta nella città di Leopardi. No, ma la questione è che comunque se si dovessero trovare i soldi per poter pagare l'affitto, una soluzione temporanea o comunque una soluzione fattibile sarebbe quella dell'ex ufficio dell'entrata e quindi altri locali non sono stati individuati e il professionale semmai viaggia per propria conto. Non ci sono preconcetti, quella è una scuola dove noi abbiamo portato le scuole medie, però per esempio abbiamo sentito insegnanti, genitori con una grande contrarietà perché comunque ci sarebbero dei risaci. Poi noi abbiamo sopportato dei costi di trasporto importanti, per cui se il problema è un problema finanziario sommare l'affitto ai trasporti, non credo che agevoli, probabilmente costerebbe parecchio di più, perché i trasporti costano, io non voglio dire un numero a casaccio, ma spostare le classi come abbiamo fatto noi potrebbe costare attorno ai 100 mila euro o giù di lì, quindi in un anno. Ora noi abbiamo un filo diretto di circa un'ora, perché poi abbiamo altri ospiti, quindi se volete eventualmente fare una domanda al sindaco, fate la domanda in maniera telegrafica, è pronto? No, non è per noi. Io questa mattina, poi chiudiamo questo discorso perché poi magari il giovedì ci sarà questa assemblea, quindi avremo modo di ritornarci, questa mattina ho incontrato in piazza due maestre che accompagnavano dei ragazzini, naturalmente delle scuole elementari e di San Vito, San Vito c'è le scuole elementari, sì. Io ho detto di dove venite? Io ho detto no, perché stavano lì a vedere la piazza, la pista di ghiaccio, a fare un giretto così, una passeggiata, un'altra parte non è anche una bella giornata. No, noi siamo quelli della scuola San Vito e finalmente ha detto una maestra, siamo a San Vito. Ho detto ma perché? Non andava bene una scuola di squarta buve? Ho detto beh, vuoi o non vuoi? È sempre una scuola in cui i spazi sono limitati, cioè qui usciamo e siamo in città, usciamo e siamo ai giardini pubblici, usciamo e siamo in piazza, c'è anche più possibilità di organizzare escursioni esterne per i ragazzini. Per dire al centro storico quanto sia importante, io ricordo negli anni Ottanta quando ci fu la proposta, che era appoggiata quella volta anche dal Partito Comunista, di spostare la scuola del liceo nell'ex foro buario, di fare lì un istituto, quello che oggi è il centro città come parcheggio e la palazzina lì condominiale, è l'area camper e io mi opposi, come il radio se facevamo le battaglie ogni tanto su questi temi e con me c'era anche Magrini, c'era anche Foschi, ricordo, che si opponevano a queste idee perché dice il centro storico, il Palazzo Venieri è il centro degli studi, non peraltro per la sua storia, per la sua struttura fisica, strutturale, dice non portiamo tutto in periferia perché ne vale anche della morte del centro storico. No, no, ma io sono d'accordo, anzi è chiaro che a volte senti anche delle proposte, no? Facciamo la città della... È sempre, sì, come i supermercati. Io credo che invece, certo anche questo, qualche disagio quando hai una scuola del centro storico ce l'hai, sia per i genitori, sia per chi ci ha, per il traffico, però dobbiamo scegliere, cioè o continuiamo ad abbandonare oppure lo facciamo vivere, anche perché poi questi contenitori al centro storico, una volta che non ci fosse più la scuola, li utilizzi male, rischi di avere un immobile di grandissimo pregio ma chiuso, abbandonato e verso il degrado perché in alcune città questo è successo. Sì, dopo che te ne fai di quel grosso contenitore? Non è che puoi fare un altro centro culturale e poi sappiamo come finiscono. Facciamo i genitori culturali ma poi serve mantenerli, gestirli. E poi saperli gestire e farli funzionari per portare gente, non è una cosa facile. La scuola è non prosulta secondo me. Poi è chiaro che quando noi siamo andati a Squartavue, avevamo il cantiere ma c'era anche il Covid quindi ci venivano tutte indicazioni per dire portateli anche nelle portate le scuole anche nei cabannoni industriali purché siano spazi aperti, ampi, in cui ci circuita un'aria. Quindi quella è stata una soluzione in quel momento quasi ottimale perché abbiamo fatto delle classi spaziosissime, c'è l'aria condizionata all'estate-inverno quindi perché... Non vi immaginavate poterli mandare per tre anni giù perché pensavate che i lavori fossero... Un paio d'anni sicuramente li avevamo... Potevano essere terminati prima. Per la fine dell'anno voi porterete come consuetudine ormai da diverse amministrazioni il bilancio di previsione in consiglio per la sua approvazione. Io ho visto già, così curiosando, che aumenti di tariffe sostanziali non ce ne sono al di il bilancio della Tari che però è una questione legata alla mancata individuazione di un sito che ci porterà un 9% in più di tassa per il 2024 e un altro 9% in più per il 2025. In due anni avremo un aumento da dare il 20%. Ora, Sindaco, io ho letto, non so se poi sia vero bisogno che approfondisco questa notizia, che anche la fede del consumatore ha sollevato il problema di una sentenza alla Corte di Cassazione che dice che la Tari non è una tariffa ma è una tassa, quindi non può essere applicata l'IVA. Sa niente di questo? Ma questa è una questione che va avanti da decenni, quindi non so cosa... Ma se è una tassa l'IVA non è possibile applicarla. Sì, però, ripeto, di sentenze... No, perché potremmo recuperare lì allora il 10%. Ma il problema è che comunque il bilancio della raccolta di fiori... Deve essere coperto. Deve essere coperto, quindi se non lo incassi in un modo lo devi incassare. Comunque è un bilancio a zero, quindi ogni comune fa questo bilancio a zero. E le poche cose che possono cambiare, perché il grosso viene dal riparto che fa il Cosmary dei costi generali, sono le poche cose che fa il comune. Quindi sono poche decine, massimo centinaia di migliaia di euro su un bilancio da 2 milioni e mezzo. E' questo per il nostro comune. Ma per me pare tanto come cifra, perché poi altri soldi vengono da altri comuni, cioè il Cosmary diventa veramente una realtà... Il punto di vista economico sta abbastanza impegnati a Mastodonti. Ma sì, è una grossa realtà, 400 dipendenti, quindi è chiaro che è una realtà anche importante nel territorio. Poi anche lì, in questi ultimi anni i costi energetici, l'aumento dei costi del carburante, hanno inciso molto anche sui costi del Cosmary. E quindi è chiaro che poi, anche lì, per quadrare il bilancio e non andare in perdita, questo viene ribaltato sui comuni che usufruiscono il servizio. Poi ecco, il problema della discarica è un problema che ha aggravato la situazione, perché non abbiamo più una discarica nostra, siamo costretti a portare i rifiuti fuori dalla provincia di Macerata, in gran parte a fermo, con costi più alti. E questo si va a sommare a una dinamica di aumento dei costi dovuta ad altri fattori. E il risultato è questa previsione di aumento. Allora, questo bilancio che cosa dobbiamo aspettarci? Abbiamo visto appunto questa situazione complessiva non del tutto rosea per quanto riguarda le famiglie. Noi abbiamo cercato di evitare assolutamente ogni aumento di tariffa, quindi tutto quello che era già nel 2023 verrà confermato nel 2024, parliamo di imposte e tariffe in generale. Poi la dinamica di aumento dei costi chiaramente si ripercuote anche sul comune. Noi l'anno scorso, nel 2022, avevamo avuto un forte aumento del costo delle utenze in generale. Nel 2023 leggermente si è un po' attenuato, però rispetto agli standard degli anni precedenti sono sempre qualche centinaio di euro in più e questo va a incidere su una parte del bilancio che è la spesa corrente che ha già di per sé una sua sofferenza. Tutti i bilanci di tutti i comuni hanno questa sofferenza sulla parte corrente. Ma anche qui chiaramente qualunque servizio sta costando di più perché i contratti dei dipendenti chi più chi meno si stanno rinnovando tutti con degli aumenti ed è giusto perché comunque il costo della vita sta aumentando. Per esempio i servizi che si affidano all'esterno, quelli nel sociale molti, che vengono affidati a cooperative esterne hanno avuto degli aumenti importanti già dal 2023 e si confermano nel 2024. Quindi c'è una tendenza all'aumento dei costi dei servizi, c'è anche una tendenza particolarmente nel sociale ad una maggiore richiesta di servizi. Dopo il Covid è una dinamica che abbiamo riscontrato e che non accenna a tornare indietro. Cioè servizi che prima del Covid avevano una certa quantità di utenti, parliamo sempre del mondo del sociale, dagli anziani ai disabili, all'assistenza scolastica, tutte queste cose qui, quantitativamente sono aumentati. Quindi non sappiamo se prima le persone si rivolgevano di meno ai servizi comunali oppure se proprio è una dinamica che... C'è più richiesta? Assolutamente sì. Ma dovuta a un aumento del disagio sociale e economico? Ecco. Più economico che sociale. Le cause non è facile individuarle, però è così. Sì e quindi è una parte del bilancio che impegna sempre di più, quindi si fa difficoltà a quadrare i conti. Dall'altra parte le entrate purtroppo, io non voglio pensare che si debbano aumentare le entrate che sono in gran parte tasse, però se le entrate restano sempre ferme e le spese tendono a crescere fai sempre più fatica a quadrare il bilancio, a mantenere il livello dei servizi e a fare tutto quello che viene richiesto. Questa è un po' la situazione che... Quindi verranno chiesti dei sacrifici? No, no, il bilancio è in linea con quello del 2023, però... Ancora riuscito a tamponare? Però non hai quella possibilità di soddisfare tutto quello che sarebbe magari richiesto. Ma nel sociale avete un'idea di quanto spendete? Sì, siamo sui 2 milioni e mezzo. 2 milioni e mezzo i rifiuti, 2 milioni e mezzo i sociali, per un bilancio totale di... 18 milioni. 18 milioni. Ho capito, quindi... Poi però avete la grande entrata per le multe, dai. No, beh, le multe... Però quelle per metà ve le porta via la provincia. Appunto. Almeno quelle della Duelex. Poi c'è un costo per la riscossione, insomma, pure le multe... Non tutte le pagano subito. Che sembra chissà che cosa sia. Certo, è un'entrata, va bene. In gran parte quella che rimane viene poi destinata alla sicurezza sulla viabilità, perché c'è la legge che impone proprio delle percentuali di spesa su quelle che sono le entrate. Quindi non riesci a fare altre cose con le multe. Quindi previsioni anche per il personale non se ne vedono, di aumento inorganico. Soprattutto si è detto sempre che è molto carente con la pulizia municipale. Ma molto carente, è un po'... Beh, 12 persone, 13 con la comandante. 13 persone, però siamo così sui 13-14 da anni. E poi, va bene, poi facciamo le assunzioni a tempo determinato durante l'anno. 3-4 assunzioni le facciamo sempre. 3-4 assunzioni le stagionali, diciamo così. Nel periodo estivo, quando c'è maggiore richiesta di servizi. Poi il grosso del bilancio invece sono gli investimenti. Qui è chiaro che la massa di contributi che ci sono arrivati dal Sisma, dal PNRR, insomma, sono decine... Sisma cos'è? Diciamo... PNRR ormai lo sentono tutte le serie in televisione, sono i fondi europei, i fondi del terremoto. I fondi di resilienza, così... Sisma... Ah, Sisma, proprio Sisma, ho capito, pensavo che era un acronimo. No, no, no. Proprio dovuto al terremoto. Sì, insomma, la Beniamino Cigli, il palazzo comunale... Ma quei famosi 16 milioni che avevano dato per il palazzo, sono scongelati ormai? No, no, erano non 16, ma erano 8. E di questi circa 800 mila serviranno per la balazzina che ci hanno fatto costruire esternamente giù di fronte al cimitero e lì a primavera iniziano i lavori. E gli altri 7 e qualcosa saranno spesi sul palazzo comunale. Saranno spesi sul palazzo comunale, perché è ancora puntellato in alcuni punti, vero? E' puntellato e c'è tutta... Tanto a norma non ce lo si può mettere il palazzo, a meno che non lo dimoriscono tutto e lo rifanno da capo. Diciamo che non può diventare un edificio strategico e per questo abbiamo dovuto costruire la palazzina apposita per gli uffici strategici in caso di emergenza. Però per tutto il resto c'è un miglioramento sismico importante, con interventi di... Ma questo ormai sono lavori che vanno un po' in là. Un po' in là. Mentre invece dovrebbero essere immediato l'apertura del cantiere per la Gigli, la scuola. Sì, manca l'ultimo parere della sovrintendenza e poi la ditta con cui abbiamo firmato il contratto d'appalto può veramente mettere i... Ancora deve arrivare questo benedetto parere. Ma che deve dire la sovrintendenza? Che è zona vincolata quella? C'era già un palazzo prima di una scuola? Sì, è lunga la storia. Sì, vabbè, è inutile che... Sennò prendiamo il tempo... No, no, ma a ogni passaggio in cui tu vai a cambiare qualcosa... Il progetto ha già avuto il parere favore della sovrintendenza quando era un preliminare. Poi ce l'ha avuto col definitivo. Adesso, siccome la società che è stata incaricata, che ha vinto d'appalto, era un appalto integrato, quindi ha fatto anche la progettazione esecutiva... Adesso anche per l'esecutivo. Per l'esecutivo serve il parere. Siccome l'esecutivo non ha cambiato... Cioè, però che tutto questo... Non ci aiuta. Lo vediamo che è assurdo, rallenta molto le procedure, però non lo riusciamo a superare, io non l'ho capito. Pronto? Ci sentiamo? Allora, scusa, io quasi quasi blocco il telefono, a questo punto si dà solo che fastidio. Allora, invece, no, abbiamo detto la scuola G, qui facciamo contento Don Roberto. Sant'Agostino? Ecco, Sant'Agostino, anche qui stiamo aspettando la sovrintendenza perché pensavamo che fosse tutto un po' più... Infatti io ho incontrato per strada a Baduano, ho detto ma quando cominciate? Mentre a novembre dovevi arrivare il parere della sovrintendenza. Esatto, invece la sovrintendenza ha già chiamato perché comunque andiamo a mettere mano sul pavimento di una chiesa del 1300, quindi... Ma è un pavimento in marmo ormai, eh? Era quello che dicevamo noi, un pavimento in marmo rifatto male in tempi moderni. No, ma se c'è qualcuno, se no... Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Qui abbiamo il sindaco e abbiamo il filo diretto. Allora, io blocco la linea, così almeno non abbiamo problemi. Dicevi per quanto riguarda... Sì, appunto, chiaramente la sovrintendenza adesso dovrebbe darci il parere favorevole, quindi ormai speriamo dopo Natale non andiamo a fare i lavori durante le festività. Quindi è un altro inverno al freddo, diciamo così, per... Noi abbiamo fatto tutto, abbiamo messo i soldi, abbiamo fatto il progetto, tutto quello che potremmo fare. A questo punto per conviene aspettare la primavera, almeno aprite San Vito come chiesa alternativa, se no la pure non è riscaldata. Però, d'altra parte, tutte e due sono sullo stesso livello, quindi si può iniziare anche prima questo. Vediamo. Comunque, sicuramente è l'ultimo inverno, dai, diciamo, mettiamola così. Benissimo, la storia delle... non possiamo che non dire due parole, l'abbiamo già detta, per quanto riguarda, e quindi per, diciamo così, per i quotidiani, per le notizie che sono uscite sulla stampa, due parole sulla tragedia delle due sorelle Stortini. Mi hai fatto un pochettino così, nel senso che sono rimasto sorpreso che addirittura le tue sorelle, in età giovanile, avevano rapporti e amicizia con la tua famiglia, ogni tanto venivano anche a cena o a pranzo lì da voi, dai tuoi genitori, penso. Sì, sì, era una situazione particolare di famiglia, erano appena uscite dal collegio dove erano state, perché essendo rimaste orfane molto piccole, adesso non ricordo, ma sicuramente in età molto da piccole, insomma, erano state tutte e due in collegio. Poi quando la maggiore ha avuto la maggiore edà, a 18 anni, erano uscite e, conoscendo delle persone qui a Recanati, si erano trasferite qui, se no, prima stavano a Macerata da piccole. E quindi in quella fase, qualche volta, insomma, è capitato di avere questi contatti. Però, devo dire che dall'epoca, insomma, ormai da 50 anni, sono tanti gli anni e ci rendiamo conto di tutti quelli che sono assaltati. E avevano scelto questo isolamento, di fatto una scelta proprio autonoma, di non avere rapporti con nessuno, anche con i parenti, o non avere amicizie. E su questo si fa difficoltà a discutere, nel senso che ciascuno è libero di scegliere questo. Poi è chiaro che, tra l'altro, erano anche due persone. Comunque uno pensi sempre che la solitudine sia meno grossa, no? Quando è un nucleo di due, anziché una famiglia di una sola persona. Quindi una si dà una mano con l'altra. Normalmente, insomma, questa è una situazione ordinaria. Poi, che cosa sia successo, sinceramente, non si capisce. Perché comunque le vedevamo uscire per andare a fa spesa, che credo fosse l'unico motivo per il quale uscivano da casa. E' chiaro che sono passate tante settimane, forse tanti mesi. Però, anche dal punto di vista... Però che il tempo scorre veloce. A volte, chi pensa di averla vista il mese scorso, in realtà sono passati otto mesi. Sì, questo è normale. Questo è normale. Perché, a quanto pare, sono morti l'inverno scorso. A giudicare, adesso sentiremo... Sì, ci sono elementi che fanno... Per freddo, ipotermia, qualche cosa che interviene. Che fanno pensare questo. Quando si è già in una fase di deperimento. Però, ecco, in tutti gli anni precedenti, mai che abbiano manifestato una difficoltà, che si siano rivolte mai ai nostri uffici... E' ero anche orgogliosi, diciamo. Probabilmente sì. Nello stesso tempo ero anche autonome finanziariamente. Sì, penso di sì. Quindi, non avendo problemi di sussistenza dal punto di vista finanziario, e appunto, avendo scelto questa loro vita isolata, è chiaro che anche magari i conoscenti che neanche salutavano fanno fatica a preoccuparsi se passano dei tempi che non li vedi, no? Perché non è che c'è questo rapporto. Certo, è un caso molto strano, molto particolare. Poi, in una comunità come la nostra, che non è grandissima, no? Quindi, ci si conosce molto. Poi qui siamo a due passi da piazza, in Corso Persiani. Quindi, uno ci si interroga, dice, ma che comunità è questa? Che a un certo momento sfugge questo dramma per otto mesi, perché magari abbiamo fretta, abbiamo le nostre cose, non pensiamo tanto all'arresto. e forse, sì, c'è ogni tanto un lampo, un ricordo, ah, è un pezzo che non le vedo più, ma forse dipende più dal fatto che non c'è stata questa coincidenza, che non pensi che addirittura ci sia dietro una tragedia. Sì, io devo dire che noi abbiamo una comunità anche molto viva, con tanti rapporti, no? Basta pensare al mondo dell'associazionismo ricchissimo, quindi del volontariato assolutamente molto, molto propositivo, molto partecipato. Quindi, di solito, queste sono le vie con le quali si mantengono i rapporti all'interno della comunità. Però, evidentemente, anche in queste situazioni, tutto sommato, buone, possono sfuggire delle cose che non immagineresti. Ecco, questo è normale. So che sono stati individuati dei parenti, vero? Sì, sì, sì. Quindi... No, ma i parenti li avevano, perché avevano tagliato i rapporti sin da quando erano giovani, giovanissime, quindi credo che anche da questo punto di vista i parenti stessi fossero anni e decenni che non avevano contatti, quindi anche da questo punto di vista non c'è la preoccupazione del cliente che non sente la telefonata, gli auguri di Natale, insomma, delle parenti, no? Che in altre situazioni più normali uno magari emerge, se c'è la bisogna di sentirsi a Pasqua e a Natale, se a Pasqua non ti senti... Te lo fai... Ti preoccupi? Ti fai... Te lo domandi. Ma se non c'è neanche questo è tutto più difficile. Certo. Certo. Vabbè, è una storia triste, tristissima. Adesso quindi i funerali saranno a carico dei parenti, perché c'era anche l'ipotesi che non avendo contatti con i parenti magari ci fosse la possibilità che il Comune intervenisse. In questi casi se non ci sono eredi succede che il Comune deve intervenire, ma penso che non sia il caso. No, ormai non più. Pronto? Buonasera, sono Nicola Dallecanati. Buonasera Sindaco, buonasera Stereo. Ciao. Buonasera. Volevo sapere dal Sindaco, cortesemente, se c'è qualche progetto per rilanciare il centro storico, perché vedo che ci sono tanti negozi locali vuoti e presumibilmente ci sono gli affitti alti. Allora non so se da parte della Giunta Comunale così c'è qualche progetto, qualcosa che credono di fare. Che possa venire incontro. Esatto. Grazie. Grazie. Mi ha bruciato una domanda, comunque ci sta questa, perché poi con il Natale, le luminari e vedere, no, il Natale una volta lo rendevano vivo le vetrine, i negozianti e chi ci abitava, no? Poi l'illuminare era uno di più che creava festa. Stanno purtroppo in Natale, ci dobbiamo affidare all'albero, alla pista di battinaggio, al videomapping della torre del Borgo, dove sono raffigurate diverse figure, fra cui leopardi, e appunto le luminari del centro storico. Per il resto effettivamente sembra mortorio. Ma diciamo, il tratto che ha la maggiore difficoltà è Corso Persiani, perché poi se usciamo da Corso Persiani, in un anno abbiamo avuto più di 29 attività che si sono avviate. Quindi non è che significa che non c'è il problema della crisi del centro storico, però c'è anche una certa mobilità, diciamo. Il Corso Persiani effettivamente, per un fatto forse casuale, ha avuto una concentrazione di chiusure che è maggiore rispetto ad altre vie della città. Poi, anche tante casualità, abbiamo cinque attività di ristorazione più o meno in piazza e magari se ce ne fosse stata una o due in Corso Persiani, perché il food è una molla importante per rivitalizzare le vie. C'era una in Corso Cavour, ma purtroppo si è chiusa per non volontà del titolo. Appunto, anche situazioni di questo tipo. Però, al di là di questo, i centri storici lontani dalla costa soffrono tutti. Quindi, da questo punto di vista, non è un sollievo sapercelo. Quindi, stiamo in una situazione in cui siamo in tanti comuni ad avere questo tipo di problematica. Noi abbiamo tentato tante cose, dei contributi negli anni scorsi per venire incontro agli affitti dei primi mesi nel caso di nuove attività, a bandi per progetti di rilancio, eccetera. L'ultimo si è concluso adesso a novembre. Lo presenteremo un progetto che è arrivato prima di Natale. Perché non è che non ci sia attenzione sul nostro centro storico. Poi, è chiaro che tra la proposta, il progetto e la realizzabilità... Ma è un'iniziativa privata? Sì, sì. C'è stato qualcuno che... C'è arrivata questa proposta. Noi abbiamo fatto una evidenza pubblica perché si tratta di una realtà del terzo settore. Quindi l'abbiamo aperta a tutti quanti. Sono arrivate tre o quattro proposte. Quindi c'è un bando? Sì, sì. Già chiuso. La Commissione sta esaminando le proposte. Perché... Ce n'è una in particolare interessante che viene da fuori, dalla nostra realtà, dietro a un gruppo tra imprenditori, professionisti, insomma specialisti del settore che sono molto interessati, insomma questo riguarda l'aspetto commerciale e turistico sostanzialmente. Per cui adesso lo presenteremo appunto, penso poterlo fare prima di Natale e poi vediamo se anche se questa sarà una soluzione che può avere sviluppo, benissimo. Quindi tocca a voi dare in là, dice sì fate, muovetevi, organizzatevi, avrete il sostegno del comune purché non ci sia un aggravio finanziario sul... Esatto, sono interessati ai locali inutilizzati. Questo non c'è, ci riporti indietro nel tempo il progetto Scavella? In qualche modo sì, allora il progetto Scavella poteva avere una sua validità, all'epoca noi l'avevamo anche in qualche modo appoggiato con una commissione che ci lavorava eccetera. Si è fermato di fronte alle risorse finanziarie perché poi lì tutti i soggetti che si erano interessati, io ricordo dal centro commerciale di Pescara a qualche straniero, una coreana, un noyorkese che era venuto, tutti però si sono fermati di fronte alla sproporzione tra gli investimenti che... E il risultato che potevano conseglieri. Evidentemente i business plan che andavano a fare, questo abbiamo riscontrato. Quindi forse quel tipo di operazione non si regge dal punto di vista finanziario, un po' più o meno dobbiamo concludere questo. Questi sembrano più, diciamo, entrano di più nel dettaglio, un po' più specializzati dal punto di vista progettuale e stanno lavorando anche in altre città in giro per l'Italia, stanno nel Lazio, in Campania, in Trentino. Forse città anche più numerose come abitanti. Ma sì e no, insomma, tipo Benevento, lì c'è Mastella che... Trasforma l'acqua in vino. No, però è uno dei comuni con cui stanno lavorando. Per cui abbiamo visto che attività importanti le stanno facendo. Speriamo bene. Insomma, noi più che essere aperti a tutto quello che ci circonda facciamo difficoltà. È chiaro anche, scusa, che l'aspetto vetrine è vero, ma forse ancora prima c'è l'aspetto residenti. Cioè il centro storico è anche poco abitato, quindi anche piccole attività commerciali che si potrebbero reggere molto con i residenti stessi del centro storico fanno fatica perché poi sono poche le persone che stanno al centro storico. Io mi rendo conto, quando c'è una brucessione, normalmente le finestre abitate sono aperte. E tu ti rendi conto che... Questo è vero. Per decine e decine di metri... Ma è un po' l'uovo e la gallina. A questo punto forse bisognerebbe più spingere per un ripopolamento il centro storico, far capire che il centro storico è un luogo invidiabile. perché mio figlio ad esempio c'è una casa alle Grazie, la vuole vendere alle Grazie ed è perché ha presso una casa sotto la torre. Vuole rimanere al centro storico perché... Anche se è povero, però è un nucleo sempre che rimane, parte storicamente affascinante. E poi comunque tanto tutti gli avvenimenti avvengono tutti qui, ogni iniziativa viene qui. c'è anche il cinema persino della sala Gigli che sta al centro storico, cioè è una storia più in periferia come le multisale. Noi vediamo se è per noi. Pronto? Sì, pronto sono Massimo. Buonasera, sindaco. Buonasera. Senta, lo state dicendo voi adesso. E beh, bisogna portarci le persone al centro storico. Prima l'abbiamo cacciata via, no? Perché io dico avete fatto le zone industrie, scusi, le aree edificabili, no? Tutto all'area perché fuori, avete fatto costruire fuori. E ora ci lamentiamo che i centri storici sono vuoti. Io non sono dire canati, però ho visto questi paesi, mi assomigliano un po' tutti, insomma. Voi avete un patrimonio di lizio immenso e molto ho visto che è messo male perché ci sono palazzi storici che stanno lì che non si sa proprio cosa farci, mi dà l'impressione, no? Perché ci vogliono tanti soldi per ristrutturarli. Quindi io dico nel tempo, invece di fare delle zone edificabili all'esterno, perché non so, semplicemente non si faceva costruire fuori, si lasciava, non si consumava fassuolo e si recuperavano, si dava incentivi per recuperare questi immobili. Io mi spavento a vedere tutta quella roba e non so come potrete sistemarle perché alla fine quelle diventano addirittura un pericolo, no? Quei vecchi palazzi che sono tra l'altro bellissimi, no? Non so come. Lì c'è veramente da fare tanto. Ma si assomigliano tutti ai paesi del scoglio dell'entroterra. Purtroppo, anche il Cido tempo fa, ormai vent'anni fa, si, si, ma... Si, si, è giusto. Ma al comune, che ne so, Morro Valle, ci sono paesi fantastici. Se pensiamo che tutte le città marchigiane sono tutti dei bei borghi, no? Montecassiano, Montefano, Montecupone, Reganati, veramente. Aspetta, no? E va bene. Grazie Massimo. Ciao, grazie. Grazie a te. Sì, ecco, relativamente a questo io condivido pienamente che in certi periodi si è sbagliato a favorire l'edificazione in periferia. Più che altro, insomma, questo noi, almeno a Reganati, lo abbiamo avuto una ventina d'anni fa quando c'è stato il boom dell'edilizia e c'è stato nei primi anni 2000 fino al 2008-2009 questa proliferazione di abitazioni in periferia ed è sicuramente stato un danno. È anche vero che per abitare al centro storico bisogna anche avere la predisposizione di abitarci nel senso che non puoi pretendere di parcheggiare sempre sotto casa, ti devi adeguare e chi non è abituato e è abituato a vivere in periferia Io lascio la macchina fuori. Ma tu hai sempre vissuto al centro storico? Sì, bene, un periodo via dal Mazze, vicino al Campo Santo. Però io noto che la famiglia che abita, che ne so, alle Grazie Però sono tornato su volentieri. E che ha il garage, il parcheggio d'anticasa, tutto quanto, ha creato un modo di vivere che se la sposti al centro storico soffre perché deve stare attento all'orario perché no, tanto... Sì, cioè ti rubano, cioè fai la corsa a occupare il posto però si vive, si vive lo stesso. C'è spazio per tutti. Io sono d'accordissimo con te. Il problema è fare questo salto. Ho capito, entrare in questo nuovo modo di vedere la vita. Pronto? Sì, no, buonasera. Forse sto intervenendo in trasmissione ma ero una chiamata privata. Allora, privata, semmai più tardi la ringrazio. adesso siamo in diretta però c'è anche l'aspetto... Prima parlavi della ristorazione, no? A parte Massimo, ti devo garantire che i palazzi tutti del centro storico, non dico quelle delle vie laterali perché quella era la zona abitata diciamo così detta povera una volta ma tutti i palazzi del centro storico sono meravigliosi perché non capisco ma quella volta curavano i soffitti con delle pittine fresche e anche vero che con il sisma bonus e non penso che ci voglia tanto per sistemare un palazzo. Ci sono tanti di cantieri a centro storico. Sì, sì, ma io ne ho visti quattro ma quello è per un bonus penso della facciata quindi un bonus edilizio invia simboli ce ne sono tre dei cantieri. Ma i recuperi ci sono perché anche con il 110 infatti il governo adesso sarà metato Giorgetti anche per il prossimo anno dobbiamo recuperare vengono all'incasso altri 20 miliardi. Pronto? Pronto, sono la Maristella buonasera a Stario buonasera a Sindaco buonasera a Maristella curati, dimmi. Allora, com'è? Sei raffreddata? Sì, anzi sono in via di guarigione. A posto, a posto. Allora, a proposito di far rivivere il centro storico la mia domanda è questa sì, bisogna adeguarsi perché ci sono le chiusure però io non riesco a capire quindi chiedo dei chiarimenti determinate chiusure determinati orari quando magari in centro non ci sono manifestazioni. E ho notato una sera una domenica sera che diciamo tra le 9 tra le 21 e le 22 in centro a Porto Recanati non si entrava a Porto Recanati si entrava e non c'erano manifestazioni niente del genere. Ma quando? questo d'estate? No, no poco tempo fa eh non c'è più l'isola pedonale eh poco tempo fa c'era la 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 domenica ah domenica sì sì di domenica ah ho capito ho capito sì ma c'è lì l'isola per 24 ore invece a Porto Recanati in quell'orario si entrava dopo non ci lamentiamo se le persone vanno a Porto Recanati quindi volevo capire queste chiusure prolungate a che cosa servono quando non ci sono manifestazioni grazie benissimo benissimo va beh questo è un argomento che potremmo aprire e finire non so quando nel senso che noi tutte queste aperture prolungate non le facciamo adesso un giorno a settimana un giorno festivo quindi non mi sembra che sia così esteso poi durante l'estate abbiamo fatto delle fasce orarie un po' più ampie perché comunque intanto abbiamo molti turisti e quando noi andiamo in vacanza se dobbiamo guardarci dalle auto che ci mettono sotto quella città non fa una bella figura questo dobbiamo ammetterlo perché poi in vacanza ci andiamo tutti e il turista che non conosce bene la strada e deve stare attento neanche riesce ad ammirare la città perché deve guardare le auto non è una bella cosa quindi lo scopo di qualche intervento è questo in più ci sono sempre due correnti di pensiero c'è quella come quella di Maristella che dice se chiudi danneggi e c'è quella contraria che dice se tu ci metti le macchine non ci sono le persone quindi dovendo mediare abbiamo fatto degli interventi molto minimali credo che non siano stati questi il problema serio del centro storico lo penso anche io invece un problema che viene sollevato è quello di poter far sì che anche i gazebo che funzionano benissimo d'estate possono funzionare anche d'inverno forse qualcuno l'ha chiesto anche che venissero autorizzati quelli chiusi in modo che perché tanto anche il fatto di concentrare in piazza un tipo di ristorazione anche diversificata può contribuire a far frequentare la gente la piazza perché piace e purtroppo oggi fra aperitivi e cene fra amici o conti vivari e incontri anche al bar e queste ormai diplomatiche per la gente anche su questo purtroppo abbiamo avuto un blocco da parte della sovrintendenza molto ricido su piazza quindi avevate chiesto per autorizzarsi sì ci ero andato io con l'architetto mamma mia stava sovrintendenza credo che il problema sia anche qui una situazione particolare perché i gazebo andrebbero messi in mezzo della piazza come stanno i tavoli e quindi questo effettivamente mettere quattro gazebo in fila significa per la sovrintendenza poi tutto è discutibile stravolgere completamente quello che è se li mettessero a ridosso dei sercizi ma dopo coperebbero la strada è vero che c'era tentato anche in tempi passati sì c'è sempre stato diciamo pure che questo attraversamento della strada da parte del cameriere non è che sia il massimo quindi è una criticità oggettiva perché se i gazebo fossero sempre fatti in maniera molto elegante aderenti ai palazzi probabilmente come vediamo in tante piazze probabilmente sarebbe più facile poterli farceli autorizzare ecco sindaco un'ultima cosa oggi ho parlato con Cessere Mighelli anzi mi ha telefonato lui perché aveva preso alcune notizie di stampa che c'erano state dei furti telecanati lui che c'è una delega alla sicurezza e ne aveva sottolineato il fatto che purtroppo ci sono anche delle cose criticità che devono essere superate fra cui quella della videosorveglianza che non sempre funziona tanto che il comune sembra abbia dato un appalto adesso una ditta la manutenzione delle telecamere l'appalto serve a rinnovare la manutenzione che abbiamo contrattualizzata quindi ce l'avevamo già da prima è il rinnovo le telecamere c'è sempre qualcuna che non funziona poi c'è la manutenzione però ne sono 80 e quasi in gran parte diciamo su 80 60-70 funzionano sempre il problema delle telecamere è che comunque per quante ne hai non copri tutto il territorio io purtroppo ho una famiglia che due volte che mi chiama perché ha avuto due tentativi poi l'allarme ha messo in fuga i ladri non è quella di Nicolò Antonio Sacco esatto perché me l'ha detto lui mi ha chiamato la moglie io purtroppo capisco anche l'esercitazione del momento perché comunque c'è lo spavento e tutto quanto però è chiaro ho cercato anche di spiegare che è impossibile pensare che ogni abitazione possa avere la copertura forse dovremmo farlo satellitare non so che cosa dovremmo fare perché tra l'altro la sua è una situazione particolare il retro da verso la campagna verso i fratelli Farino lì sono un po' esatto quindi la videosorveglianza è un ottimo strumento ma non risolve tutti i problemi questo lo abbiamo visto poi abbiamo un paio di situazioni di come dire di non degrado ma di attività di danneggiamenti così anche qui siamo sempre in contatto con i carabinieri che ogni tanto fanno la loro perlustrazione è chiaro ci dicono quando mi capita di parlare con le forze dell'ordine mi dicono ma tu che pretendi che a Reganetti non succede mai niente no anzi anzi questo non perché è chiaro che anche se ce n'è uno di furto fa male va beh fa male però anche dobbiamo renderci conto che effettivamente però se noi prendiamo per dire situazioni molto più critiche porto Reganetti beh lì c'è già un anche obiettivamente una situazione sociale diversa più addensamento di popolazione per quanto riguarda la città nuova più luoghi di divertimento però è chiaro che anche le forze dell'ordine hanno quella maggiore attenzione in quelle situazioni di maggiore criticità però noi comunque ma lì c'è anche altri fenomeni di criminalità che non sono legati soltanto ai fulti assolutamente però ecco comunque siamo sempre alla ricerca di soluzioni con l'implementazione della videosorveglianza e con altre misure insomma di anche gli educatori di strada stanno lavorando a Villa Teresa insomma c'è da fare tutto non basta soltanto la la videosorveglianza perché non risolve il 100% del problema l'ultima cosa perché intanto siamo in campagna elettorale tutto a posto ci si va avanti con questa candidatura di Bravi sindaco uscente il PD è estremamente convinto di questa scelta c'è soltanto da contare le liste civiche se sono tutte pronte quelle che di una volta quelle che si erano formate è vero che il quadro è cambiato perché ad esempio c'è la lista civica di Enrico Fabraccio quella volta che adesso invece Fabraccio fa parte che è commissario lì di Forza Italia per i canati quindi tutta altra situazione si è venuta a creare lui stava con però stava con Graziano e quindi che succede per quanto ci riguarda Tony Bravi naviga sicuro perché il centro destra non fa sapere nulla ma questa incertezza alla fine non è neanche un vantaggio nel senso che ci si sta avvicinando ormai eh sì ormai il prossimo anno eccolo non è vicinissima però insomma siamo già ormai a fine anno quindi ci stiamo avvicinando rapidamente al periodo elettorale a campagna elettorale e non avere ancora un minimo di quadro su quella che sarà la situazione non aiuta nessuno perché poi sai c'è sempre qualcuno che disturba qualcuno che ha un po' di ambizioni fa parte della vita tu lo sai meglio di me no? sì sì però noi stiamo andando avanti tranquillamente su questa proposta che io ho fatto di ampliamento della coalizione e ci lavoreremo ancora insomma benissimo allora possiamo chiudere qui questa chiacchierata io ringrazio il sindaco Antonio Bravi e naturalmente lui che poi continuerà a lavorare perché deve preparare il bilancio di previsione che come consuetudine viene approvato fra Natale e San Silvestro sì quest'anno avremo due passaggi perché è cambiata la legge ah cioè il bilancio va discusso due volte in consiglio e con quale lasso di tempo? ma anche una settimana quindi una seduta prima di Natale e una dopo Natale c'è una seduta in cui non si vota è solo la discussione ah e perché? e si possono presentare gli emendamenti e poi c'è la seduta che approva dove vengono discussi gli emendamenti è cambiata la legge a luglio adesso più male più agile più ecco sì va bene allora auguro profitto per augurare anche buone feste grazie buone feste a tutti a tutti benissimo grazie Antonio grazie grazie